Musica Tanta buona per tutti ragazzi, siete sintonizzati con Mr. Rock e dopo tanto tempo ritorno al nostro Mr. Rock, vedrete sempre più video nei prossimi giorni oggi però parliamo della, non di Mr. Rock, ma della modifica alla correzione del disallinamento dei mirini come sapete il rinculo è cambiato e andremo a vedere come cambierà questo rinculo saranno 4 video, parte 1 per gli attaccanti, parte 2 per gli attaccanti e uguale, parte 1, parte 2 per i difensori altrimenti venimo a un video lunghissimo state attenti ragazzi, non ci sono tutte le armi ho tolto gli shotgun, ho tolto le armi secondarie e ho tolto le armi a colpo singolo perché non c'è bisogno di vedere il rinculo delle armi a colpo singolo vedremo tutti gli operatori e una piccola spiegazione, vedremo colpire due bersagli il primo bersaglio lo colpirò in testa per vedere la differenza che c'è tra il primo colpo e il secondo colpo sparato se prende anche il secondo colpo la testa in assenza di controllo del rinculo ovviamente 0 gadget, 0 gadget per tutte le armi nel secondo bersaglio invece andremo a vedere prima di tutto cosa succede sparando colpo singolo o raffica a seconda dell'arma che ho e come ultima cosa spareremo al busto, quindi al bersaglio centrale all'interno del corpo del nostro bersaglio per l'appunto e vedremo come si va a disegnare la linea del rinculo per ogni arma io penso che questo video sia utilissimo perché si possono dedurre tantissime cose quindi state attenti ci è voluto tanto tempo per registrarlo state ben attenti a qual è l'operatore perché non ve lo scrivo, ormai dovreste aver imparato qual è il logo dell'operatore e fatemi sapere nei commenti che cosa si può dedurre da questi rinculi da operatore a operatore state molto attenti mi aspetto i vostri commenti a biohazard container unknown clear to engage 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 No, find the biohazard container No, find the biohazard container No, find the biohazard container Biohazard container unknown Clear to engage There's a container unknown Clear to engage Find the biohazard container No, find the biohazard container Container location unknown You are clear to engage You are clear to engage Find the biohazard container No, find the biohazard container Clear to engage No, find the biohazard container No, find the biohazard container